Procedura di licenziamento per 58 dipendenti della Ergon, il curatore fallimentare dell'azienda partecipata che si è occupata della raccolta dei rifiuti per numerosi comuni negli anni scorsi, ha infatti inviato la missiva nella quale annuncia la risoluzione del rapporto di lavoro. La data fatidica sarà il 31 ottobre. Nella lettera inviata alla Regione, ai sindacati e al consorzio, Michele Iuliano, commissario liquidatore, spiega i motivi che hanno portato al licenziamento collettivo. Il commissario liquidatore pone l'accento anche sul differimento o nel mancato pagamento delle fatture da parte dei committenti dovute a difficoltà finanziare o a contestazione degli accordi sottoscritti in ordine al costo del servizio, che ha innescato un meccanismo vizioso con grave crisi di liquidità per la Ergon. Un circolo vizioso che ha portato all'impossibilità di far fronte al pagamento degli stipendi nel mancato rispetto degli obblighi di natura previdenziale e assistenziale con conseguente irregolarità ai fini durc, generando il blocco totale dei pagamenti e l'impossibilità di un corretto svolgimento dell'attività lavorativa. E in questo circolo si è arrivati alla perdita di commesse con conseguente passaggio di cantiere.